Sabato 5 e domenica 6 marzo a Camerano di Ancuna, Conero Caravan aprirà le porte del suo showroom per un weekend di offerte e promozioni per tutti gli amanti dei viaggi itineranti. Conero Caravan vi farà scoprire un nuovo modo di fare vacanza, una sorta di avventura in piena libertà. La vacanza in camper è una vacanza itinerante che permette a te e alla tua famiglia di viaggiare in libertà, così facendo la vacanza in camper diventa un'avventura perché comunque durante il tuo itinerario puoi effettuare variazioni e scegliere mete diverse rispetto a quelle programmate. Questo è uno dei grossi vantaggi della vacanza in camper. Una vacanza per tutte le tasche data l'ampia gamma di scelta, dal camper usato a quello di ultima generazione. La vacanza itinerante è una vacanza per tutte le tasche. Puoi iniziare con noleggio, passare all'acquisto di camper o rullotte usate, fino ad arrivare ai prestigiosi motorhome di ultimissima generazione. Noi ti offriamo dal noleggio all'acquisto di camper luotte usate, fino ad arrivare alle ultime novità del settore, che puoi trovare presso la nostra serie espositiva.